Iniziati i saldi a Torre del Greco, con la partenza ufficiale degli sconti stagionali in campagna anticipata al 21 luglio, le vetrine dei negozi iniziano a riempirsi dei classici cartelli e scritte con le offerte. Nonostante il caldo e l'emergenza sanitaria, sono tanti i torresi che hanno iniziato i primi giri di shopping per il centro cittadino. In particolare sono i giovani più disposti a spendere ed approfittare di questi saldi. Restano dubbi e timori per l'incertezza economica di questo periodo. Non ci sono molti soldi, col covid non abbiamo lavorato tanto, quindi cercheremo di risparmiare. Non è vero, questa è una grandissima bugia, spenderò tutti i soldi. Comunque sì, sono cominciati e speriamo di spenderli. Hai già pensato come li vorrei spendere? In consumi da bagno, perché ho tantissime feste di laurea in piscina e quindi dovrò essere fantastica. Cosa comprerai in questa stagione dei saldi? Un paio di scarpe, poi comprerò delle magliette, dei pantaloni. Non vedevamo l'ora che arrivassimo, comunque sì, abbiamo in mente un sacco di spese da fare. Nonostante la crisi, covid e tutto? Purtroppo c'è gente che è stata più vittima di questa situazione, chi magari lo stesse riuscito ad andare un po' avanti, però ci riprenderemo mano a mano. Tu cosa comprerai? Allora qualche abito, qualche maglietta, quello che c'è da comprare. Non credo che siano saldi reali, perché manca merce nei negozi e penso che debbano recuperare dei soldi, visto che prima della pandemia su alcune cose noi abbiamo trovato gli stessi prezzi, quindi non saranno sicuramente... sicuramente no, perché non voglio accusare nessuno, ma in parte non sono saldi reali. Lei ha già pensato di comprare qualcosa in questo periodo? In questo periodo no, aspetterò. Aspetterò perché quando si renderanno un po' conto che effettivamente devono essere dei saldi veri. Aspettiamo questo periodo proprio per comprare, fare regali e allargare il proprio armadio senza spendere troppo. Non abbiamo ancora girato i negozi e sono tornato comunque da poco. Vorresti comprare qualcosa tu? Se c'è qualcosa che mi piace ovviamente sì, altrimenti aspettiamo la prossima stagione a vedere quello che ci offrono.